Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo video sono Shish di Wasgaming e oggi siamo sul gioco dal titolo No Man's Sky questo gioco oramai è uscito già da qualche giorno sembra avere delle ottime recensioni sia sul web che vedendo anche su altri youtuber, altri gamer in generale quindi questa sera ho deciso di provarlo anch'io come potete vedere io già ho fatto una parte dell'intro di questo gioco adesso mi trovo su una stazione spaziale che non mi ricordo si chiama non lo so, non me lo dice vabbè sto su una stazione spaziale qua è un macello, astronavi che vanno, astronavi che vengono le astronavi devo dire la verità sono molto belle anche se questa è entrata nella... vedi? vediamo interagisci vediamo questo, chi è questo qua? e che cazzo significa? vendi all'estere ma vendiamo all'estere senti ti vendo che cazzo ti posso vendere? ti vendo un po' di ti vendo 80 di rame dai va bene? poi ti vendo pure un po' di ti vendo pure un po' di carbonio giusto per e queste cose non te le vendo perché mi piacciono vabbè fammi vedere che allora ti posso vendere cose che non mi servono il plutonio non mi serve vabbè basta non ti vendo più niente a parte che sei antipatico che non parli c'hai i puntini in faccia negli occhi ma io me ne voglio andare basta ah ok vabbè che cazzo mi sbatteva la faccia contro l'astronave allora andiamo subito nella nostra piccola astronave schifosa vedete sarebbe tipo questo è tipo la il 127 dello spazio allora entriamo sulla nostra bella astronave non mi ricordo sinceramente come si parla come si parte no come si parla ok oh piano 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 che cazzo oh piano 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 che cazzo che cos'è posso sparare al pirata qua che cos'è andiamo su questo pianeta forse andiamo con un'accelerazione di 1000 g piano eh piano che ci sono i detriti oh piano piano mamma mamma mia che che asteroide mamma mia ho dato una craniata allucinante facciamo il salto intergalattico andiamo nell'iperspazio ho paura di schiantarmi sul pianeta sinceramente come si frena oh frena mamma mia vai piano no però devi andare piano porca macca andiamo verso il radio faro dai ok stiamo ancora navigando miau miau oh mamma mia non si può distruggere questo assorbiamo un po' di ferro dai ma che ci sta solo ferro e plutonio questo pianeta va bene ripartiamo verso verso lo spazio e il tempo beeello si però andiamo un po' più veloce premi e per l'atterraggio zona di atterraggio occupata va bene allora atterriamo qua ok ragazzi siamo atterrati su questo su questo pianeta fatto di piante vediamo un po' vediamo un po' questo che cos'è prendiamo un po' di ferro allora questo gioco non è schifo non fa però diciamo che a lungo andare può sembrare qualloso capito cioè non è che è brutto nessuno slot disponibile per l'inventario dell'atto sento sento delle voci oh c'è un c'è un cazzo di paguro qua raccogliamo un po' di ferro ok nessuno slot disponibile per l'inventario della tuta allora ricarichiamo il questo spariamoci pure un po' di 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 talan ok come si chiama lui vediamo che altro abbiamo abbiamo questo vabbè dato che ci troviamo carichiamo anche un po' l'astronave perché così ecco protezioni dalle radiazioni 75% si vabbè madonna ma scende fortissimo vabbè vediamo un po' qua che possiamo trovare ma io in ogni pianeta che vado trovo solo il ferro che cosa sono quelli che cosa sono i vediamo un po' sono cani triceratopi non so dove dove possiamo andare oh cazzo questo 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 c'è la faccia di uno che mi spacca il culo fammi vedere andiamogli da mangiare facciamocelo amico questo questo cazzo di granchietto qua perché questo ci dio dio dove cazzo ah ok ragazzi su questo pianeta il finisce tutto troppo subito io devo trovare lo zinco perché di zinco non ne ho assolutamente non ne ho affatto vediamo questa che cos'è questa pianta sento di be ah ecco che cosa possiamo togliere che cosa possiamo togliere vabbè a sto punto buttiamo ma io voglio costruire qualcosa come faccio a costruire qualcosa la spada laser qua i missili perforanti ragazzi questo pianeta fa fa che che cos'è questo un armadillo da guerra i malcite ragazzi genio a chi ha scritto i nomi di questi animali la protezione dalle radiazioni sta finendo oh lì c'è qualcosa c'è un accampamento andiamo a vedere questo accampamento oh stiamo morendo aspetta che stiamo morendo eh noi ce la giochiamo tutta dai eh non posso morire che cosa c'è che cazzo mi ha uscito ma brutta merda devi morire devi morire dov'è dov'era quel posto ah eccolo ragazzi non so questo che cosa cosa può essere vediamo di ah ok bello quindi posso ricaricare la vita analizza tecnologie premio tab per aprire l'inventario come tecnologia che possiamo creare intensità granate sigma mio dio granate missili bombe che cosa devo fare qua io voglio qualcosa da aggiungere all'exo tuta vabbè allora torniamo indietro con p vediamo qui che possiamo fare possiamo collegarci a facebook dove si mette mi piace qua ok no iscriviti al canale di wasd gaming su youtube su youtube ecco spediamola a tutto il mondo ok grazie oh che bello che schifo ok possiamo uscire riprendiamoci la nostra le nostre belle radiazioni io ho necessità di trovare delle cose chimiche cose del genere cioè roba di oh ah ecco apriamo il radio faro che cacchio la tua scoperta è effettuata eh salviamo nel deserto del del congo qua qui che abbiamo non trovi nulla che culo ti pare che io trovo qualcosa qua questo che cos'è occorre un chip bypass che non sappiamo cos'è forse si crea boh non lo so oh lo zinco eccolo finalmente sono finiti i colpi ho fatto un macello ho fatto un macello perché non ho sparato più questo voglio vedere qualche animale strano andiamo a vedere come si vede il mare mamma come sa sento delle voci mi oddio che c'è ci sono i mostri radiazioni elevate rilevate ah sto sotto acqua come cacchio ci esco dall'acqua contaminata ma chi me l'ha detto da qua dentro il radio faro è lì mio dio non sto trovando un pianeta bello cioè proprio è impossibile è impossibile vola nel cielo oddio sono caduto accendiamo il radio cacchio eccoci qua ok che ho fatto non lo so che cosa ho acceso la casetta ah lì c'è l'avamposto lì c'è la mia astronave ah vabbè alla fine tanto lontano non ci sto mamma che palle ho capito vagabondo che sono io perché darmi del vagabondo devo per forza tuffarmi nella nella melma ma chi è che fa mamma mia che posto brutto guardate che posto brutto che posto brutto vabbè adesso facciamo così adesso volo su questo scucozzolo mamma che botta aspettate che mi son schiantato ok oddio che sono sti versi ma che sono le anime che cazzo sono sti cose sono le anime sono le anime dei morti raggio tetra si vorti cubo ma chi cazzo le fa ste cose trovate trovate fonti di vita secondo me ma che vado là succede un macello trovo tipo un miliardo di persone che mi aspettano per fucilarmi che cos'è questo l'albero di natale di questo è l'albero di natale di ferro questo è l'albero di natale che non si distruggerà mai nè 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 vabbè è tutto avviene oddio qua c'è il regno dei dei granchi orribili questi esseri madonna però mi dovete dare le cose qua eh cioè mi dovete dare lo zinco sto pianeta mi deve dare lo zinco perché se no qua non risolviamo un cacchio ma perché mi dà le tecnologie che non 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 dov'è la casetta troviamo la la casa oh bella eccola la casetta ah finalmente il sole cosa è con una montagna che fluttua ma dai ma dai le montagne che fluttano oh ah no so io che respiro come uno gnu ah ma qui si può attirare con l'astronave dai ricaricami iscriviti al canale ok iscriviti al canale roba l'acceleratore di nanomacchine ma che ma che cosa che ci facciamo con l'acceleratore di nanomacchine entriamo qua dentro vediamo prima cosa dove si entra oh che cazzo mi hai fatto cagare in mano porca mi sono cagato sotto sto pezzo di merda che c'è qua il commercio galattico ah ecco allora vendi i tuoi oggetti allora io voglio vendere ma ti dico subito voglio vendere le mutande spazi ma che palle non posso vendere un cazzo dai tu che vuoi fare oh bello che figo eh come lo compro sto coso mi devo vendere l'anima che ho scoperto ho scoperto la pianura padana qua che ho scoperto c'è un ragno che mi ha cagato nell'astronave va bene andiamo via da questo pianeta non è giusto per perché voglio capire questo che cazzo vuole devo fare qualcosa ma devo parlare ti devo sparare che trova la fonte del segnale ah ecco parliamo con Rospiff ogni lacrima una creatura mi sta aspettando non capisco se sia fatta di carne o metallo o entrambe le cose delle luci lampeggiano sul suo visore ma per il resto è immobile a un certo punto la testa fa un senno meccanico verso una stele con stupore mi rendo conto e capisco che è quello che c'è scritto sopra alzo lo sguardo verso la creatura in cerca di risposte ma ricevo solo silenzio immagino che sia solo un corriere non l'autore del messaggio la stelle contiene anche il progetto di una tecnologia una iperguida prendi il progetto occhio al tricerato qua qua ma che fa mi sente che strillo noo no 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 Madonna non mi carica che ti distruggo Vabbè sono tornato da Dall'amico Fritz Allora signore Io Ok va bene così Non capisco che cazzo dici Ma vaffanculo va Devo raggiungere la stazione spaziale Ok siamo atterrati nella stazione spaziale Quindi adesso cerchiamo di capire Che cazzo dobbiamo fare per costruire Questa maledetta iperguida Oh c'è uno stronzo qua Senti binocolo Sì sì sti cacchi Vuoi di quello che cacchio vuoi Mi devi Mi devi far costruire una cosa qua Sì raro Non tengo né quello Né quello Né quello Qua dove si va Vabbè ragazzi Il video finisce qui Perché non ci ho capito un cazzo Scrivete Scrivete qui Nel video Se volete il proseguo Di questo Di questo gioco Non vi scordate comunque Di mettere un mi piace E le cose importanti Iscrivetevi al canale Ciao a tutti Ciao a tutti